Fai la light perché no? quello non serve in internet per fare come creasci queste cose qua ok? e glielo mandi ad Alessio e glielo fa vedere come è ok? dai vado Pablo bravo 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 e poi hanno segnato come oggi una del massimo eeeh 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 an Infatti io non ho steli problemi, quindi ho problemi con te. Stai fermi, regà. Stupido! No! No! Via! Ehi! 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 Bravo! Ehi! Voi! 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 Beh! Voi! 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 Come in! Voi! Voi! E' rimasto 6, è un po' 2 E' rimasto 6, è un po' 2 E' rimasto 6, è 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 rim